E ben a tutti ragazzi qui siamo a un nuovo video di questo canale oggi siamo su un tutorial ok ragazzi Allora fatemi un attimo controllare che cacchio è questa roba che cacchio è sta roba ok Poi allora allora sto registrando ok benissimo ragazzi oggi in questo tutorial cosa vi spiegherò Vi spiegherò come mettere una skin voi dovete andare su il vostro browser e scrivere nova skin e vi lascerò il link in descrizione Nova skin ok minecraft skin editor nova skin poi ok Nel mio caso io l'ho già fatto però prendete uno a caso aspettate che sta caricando questo sito non è uno che va subito velocissimo infatti chiederò un po' Ah no queste sono cose di amazon che hai visitato ok ecco nel mio caso io ho preso questa Ecco voi dovrete semplicemente prenderne una a caso io prendo questa sta caricando ok ho preso questa posso anche modificarla tipo se voglio scrivere saetta dietro posso scriverla benissimo Ok mettete che voi volete questa basta che andate apply scrivete apply poi no allora indietro poi save prima save Poi andate appunto sta salvando sta facendo un po' di cose ok carica tutto è un po' lento questo sito eh Ok ok benissimo aspettate un secondo ragazzi che deve bene fare una cosa vai vai muoviti ok save Ok riuscirà questa pagina qua voglio mettere nome descrizione a caso save Ok ci metterò un po' si download scusate 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 ragazzi poi dovete cliccare download Poi io lo metto sul desktop qua mettetelo io lo metto per comodità poi voi mettetelo un po' Cioè se lo volete mettere nei documenti decidete voi Caret un po' se lo volete fare Ok ok caricherà la pagina di minecraft e ci vediamo quando sarò dentro Allora una volta blocavi e entrati in un sito Ehm dovete andare This is a normal skin Change Poi dovete cliccare scegli file e vi aprirà una finestra nel caso io vado in desktop qua poi giù questa cliccherò apri io non lo clicco perché se no mi appunto salva questa skin poi dovete fare mai o Alex oppure Steve o Steve o Alex e scegliete il file poi cliccate upload e chiudete e su minecraft ci sarà la vostra skin adesso io la elimino perché cioè non no che cacchio faccio perché appunto non non mi serve perché ce l'ho già la skin poi se volete cliccate aggiornano non è che serva molto e avete la skin sul vostro minecraft allora ragazzi io come al solito vi ringrazio per la visione vi ricordo di passare su instagram di mettere un mi piace e di commentare e di iscrivervi alla mia pagina al mio canale telegram e ciao a turuturututti ovviamente scherzo ciao ciao ciao